Ciao a tutti, una domanda che mi fate molto spesso è ma il narcisista si accorge di essere narcisista? Allora, in questo video io vorrei rispondere facendovi capire che ci sono diversi tipi di patologie e diversi tipi di caratteristiche all'interno delle patologie. Intanto quando parliamo di narcisisti parliamo di disturbi che appartengono ad un cluster ben preciso del DSM che è il manuale di psicopatologia e che ha a che fare con disturbi narcisistici, disturbi borderline, antisociali o psicopatici. Ora, quando io parlo di alcune caratteristiche molto spesso tutte queste caratteristiche sono legate a questo tipo di cluster per cui, ad esempio, quando io parlo del narcisista parlo della mancanza di empatia. Il narcisista è all borderline, sono molto gettonati come tipi di disturbi perché tendono a sviluppare delle relazioni tossiche e quindi soprattutto i narcisisti tendono a usare le persone con cui stanno oppure a usare i loro amici, oppure a usare i colleghi di lavoro. Quindi sono dal punto di vista tossico, delle relazioni tossiche, quelli più studiati e quelli più, diciamo così, pericolosi. Allora, ci sono però diversi tipi di narcisismo. Intanto, spesso ho ripetuto nei miei video, che i narcisisti, il disturbo narcisistico di personalità ha un grandissimo difetto e cioè manca di empatia. È vero anche che non avendo questa empatia, quindi essendo l'empatia, quindi capire cosa prova l'altro essendo un fortissimo limite sociale, un fortissimo contenitore sociale, nel senso di deterrente rispetto alla possibilità di far del male a qualcun altro i narcisisti in realtà, mancando di questa empatia, tendenzialmente vanno a far male a qualcun altro. Ma si rendono conto di far male? I narcisisti si rendono conto di manipolare le persone? Si rendono conto di mentire costantemente? Di essere incoerenti? I narcisisti si rendono conto di mettere in gioco la vita delle altre persone? Di giocare con la vita delle altre persone? La risposta è sì. Perché? Perché dobbiamo dire che ci sono diversi tipi di narcisisti. Innanzitutto il disturbo può essere pervasivo o non pervasivo. Che cosa vuol dire? Pervasivo vuol dire che pervade, lo dice proprio la parola, tutta la vita della persona. Mentre quello non pervasivo vuol dire che potrebbe essere selettivo nel tipo di relazioni. Quindi non essere un disturbo narcisistico, non dimostrare questo lato narcisistico in alcune relazioni, mentre in altre sì. Altra distinzione ha a che fare con quelli performanti, altamente performanti, e quelli non performanti. Che cosa vuol dire? Il narcisista performante ha solitamente un'intelligenza superiore alla media. Il narcisista non performante ha comunque un disturbo narcisistico, ma un'intelligenza meno attiva, meno brillante. Per cui, mentre il narcisista performante, pervasivo, è una sorta di macchina da guerra, nel senso che è molto intelligente, pervasivo in tutti i suoi aspetti, privo di empatia, addirittura alcuni narcisisti, ci sono gruppi su Facebook di persone, di narcisisti veri e propri, che si ritengono una razza superiore. Si ritengono quasi degli dèi, dei semidei. Quindi tendono a costruire una visione di se stessi estremamente grandiosa. Tra l'altro una visione di se stessi che a volte è ai confini tra l'essere delle persone integerrime, essere delle persone quasi da imitare. Quindi alcuni guru spirituali, religiosi, possono essere assimilabili a questi narcisisti tendenzialmente overt o covert, a seconda, ma altamente performanti e pervasivi. Ad esempio i capi delle sette, per intenderci. Allora, tutti i narcisisti hanno una parte sana e una parte meno sana. Anche quelli altamente performanti, anche quelli pervasivi. C'è comunque una piccolissima parte di loro che potrebbe essere definita sana. Questa finestra, questo piccolo forellino, nel caso ad esempio dei performanti e pervasivi, diventa una finestra vera e propria in quelli non pervasivi o poco performanti. Quindi solitamente si rivolgono ad uno psicologo, ad uno psicoterapeuta, si rendono conto di essere narcisisti, quindi hanno una capacità di analizzare il loro comportamento, quelli di questa categoria. Per cui queste finestre, diciamo così, finestre di lucidità, finestre di realtà, permettono loro di capire che stanno facendo del male alle persone. Capiscono che stanno facendo del male, ma attenzione, capiscono il dolore delle altre persone perché imparano i comportamenti e i modi di fare della persona che soffre. In realtà, quando noi abbiamo a che fare con narcisisti overt, covert, pervasivi, non pervasivi, performanti, non performanti, dobbiamo sempre ricordarci che c'è un aspetto di non empatia che trasformano, perché sono dei bravissimi attori, quindi sono dei bravissimi mirroring, riescono a carpire perfettamente i tipi di comportamenti, quindi, come dicevamo, a metterli tipo a cozzaglia all'interno del loro pattern di schemi comportamentali, loro non si accorgono che l'altra persona sta male perché percepiscono il suo dolore. Si accorgono che la persona sta male perché i comportamenti di quella persona sono nel file quella persona sta male. Dobbiamo vederli come dei robot, quindi, che imparano una sorta di intelligenza artificiale, che impara ad apprendere i comportamenti dell'altro, li replica, li comprende, nel senso che capisce come vanno utilizzati e si passa da un'empatia, che è quella vera di percepire le emozioni dell'altro, a una sorta di empatia razionale, un'empatia chimica, un'empatia strutturata, logica, razionale, che è un paradosso, ma in realtà è l'empatia che è strutturata dall'apprendimento di schemi delle persone che stanno male. Quindi non si rendono conto che stanno facendo, anzi scusate, non soffrono del dolore dell'altro, quindi non hanno sensi di colpa, a meno che siano dei narcisisti, ripeto, non pervasivi e poco performanti solitamente, quindi riescono a comprendere. Oppure altamente performanti, ma poco pervasivi, tipo persone estremamente intelligenti, che però hanno un buco narcisistico e si rendono conto della loro patologia, allora provano a chiedere aiuto, anche se è molto difficile poi curarli, e non comprendono fino in fondo la necessità di recuperare le loro malefatte, quindi continuano a manipolare e non si rendono conto di far del male alle persone. Si rendono conto attraverso la lettura del comportamento. C'è poi un altro tipo di distinzione da fare, quelli benigni e quelli maligni. Allora, quelli maligni sono quelli che hanno all'interno del loro comportamento il sadismo, quindi il fatto di godere del far male alle altre persone, di godere della manipolazione, di godere del mentire, di godere del fatto che l'altra persona soffra mentre lui o lei la stanno utilizzando ha il loro vantaggio come approvvigionamento narcisistico. Quelli benigni, purtroppo, non sono quelli buoni, sono quelli che semplicemente non hanno il sadismo, quindi continuano a far del male all'altra persona, solo che lo fanno accidentalmente. Quindi fanno comunque soffrire l'altra persona, perché l'obiettivo principale è quello di avere l'approvvigionamento narcisistico, ma lo fanno in maniera accidentale, quindi manipolano in maniera accidentale, si comportano come dei mostri a volte, perché apparentemente dall'esterno sembrano veramente dei mostri quasi inumani, per quello che dobbiamo imparare a vederli come dei robot, e non si rendono conto e fanno del male accidentalmente. Ora, di questi aspetti, loro si rendono conto effettivamente di far male alle persone, e se sì, perché continuano a far del male alle persone? Allora, il perché è approvvigionamento narcisistico, lo sappiamo, loro non fanno altro che utilizzare gli altri per raggiungere i propri obiettivi, quindi è proprio una condizione di parassitismo, di vampirismo energetico, vampirismo di vita, ok? Se ne rendono conto, pensateci, tendono a nascondere le loro malefatte. Quando hanno una vittima, tendenzialmente cercano di non parlare di quello che fanno con questa vittima con altri, quindi camuffano la realtà. Quando si rendono conto, evidentemente, che la vittima sta soffrendo, a volte se ne rendono conto, perché leggono i comportamenti, e camuffano quello che sta succedendo, raccontandolo ad altri, elaborando un'altra realtà, facendo in modo di far capire, omettendo, per esempio, dei particolari, oppure raccontando delle vere e proprie bugie, oppure lavorando di nascosto. Quindi cercano di coprire, tendenzialmente, quello che stanno facendo. Allora, vuol dire che c'è intenzionalità, vuol dire che c'è intenzione, vuol dire che c'è il tentativo, comunque, di nascondere quello che stanno facendo, perché hanno paura di essere beccati. Allora, persone che si comportano in questa maniera, si rendono perfettamente conto che quei tipi di comportamenti, sono comportamenti non adeguati. Quindi, pensare, se un narcisista si rende conto o meno di quello che sta facendo, è, sì, ci sono ottimi dati, ottimi riferimenti per capire che, sì, si rendono conto di far male alle persone, solitamente leggendone il comportamento. Non soffrono del dolore delle altre persone, perché non hanno empatia, ma si rendono conto di quando fanno male le altre persone, soprattutto se sono molto intelligenti, perché imparano che quel determinato comportamento è associato a una emozione negativa. Io spero di essere stata chiara. Se ci sono altre domande, potete scriverle qua sotto il video. Per contattarmi, potete contattarmi attraverso la mail seguilapapa.gmail.com Vi chiedo di iscrivervi al mio canale YouTube Emanuela Papa per rimanere aggiornati di tutti gli altri video. Io vi saluto e al prossimo video. Emanuela Papa Grazie a tutti.